L'amministrazione comunale di Teramo ha approvato il progetto esecutivo del contratto del quartiere Cona, lavori che dovranno dare un altro volto alla macroarea che comprende anche i quartieri di Piano Solare e Fonte Baiano. Un traguardo reso possibile tramite i fondi che furono stanziati in passato benché una cospicua parte di essi si erano andati persi e con la fattiva collaborazione del comitato di quartiere che ha fornito suggerimenti per indirizzare gli interventi. Ci siamo seduti finalmente a tavolino anche con il progettista per venire incontra tutte quelle che erano le esigenze della Cona, di Fonte Baiano e di Piano Solare. Questo in considerazione del fatto che quanto recepito dalla cittadinanza soprattutto in ambiente urbanistico sia fondamentale perché il cittadino deve riuscire a vivere quello che è il proprio territorio con un occhio puntato al green di cui tanto si parla in questi giorni quindi rivalutando il verde creando luoghi di socializzazione con un occhio attento rivolto ai bambini che abitano quel territorio e quindi per noi è un grande risultato ora essere arrivati a questo progetto definitivo che andrà immediatamente a gara in modo tale da iniziare i lavori quanto prima e far sì che il quartiere non sia più considerato soltanto un quartiere dormitorio come impropriamente viene definito ma possa vivere concretamente il proprio territorio i propri spazi e la propria urbanizzazione che è fondamentale. Questo è un risultato straordinario, un obiettivo che c'eravamo posti inizio mandato, un fallimento delle precedenti esperienze amministrative, risorse che erano state praticamente perse, soltanto gli interventi privati, nulla di pubblico e oggi restituiamo con questo progetto dignità alla CONA, un intervento che ovviamente migliorerà la qualità della vita, di rigenerazione, di riqualificazione diverso da quello pensato nel 2004 ma un intervento importante e devo dire che è un altro obiettivo straordinario raggiunto. Non si può non parlare della centrale che è insomma nel quartiere della CONA ci sono novità come sta procedendo. C'è la volontà poi su quel sito che attualmente occupa la cabina primaria di restituirla alla collettività per creare un luogo di socializzazione e di condivisione realizzando da parte di Enel una piazza che valorizzi ancora di più quel territorio.